I patriarca e il Papa hanno confermato la sua necessità di trovare proprio concretamente delle altre soluzioni, noi le stiamo cercando e non escludo che potremo presto anche noi, ma in questo momento qui non c'è lo spazio fisico anche per la notte e allora ecco che ci scateniamo un po' la fantasia per accogliere in tutti i modi questi fratelli, anche poco fa erano qui in patronato. Posto al momento non ce n'è, ma Don Nandino ha trovato il modo di aiutare concretamente i rifugiati coinvolgendoli nelle iniziative parrocchiali come quella di organizzare delle cene per la comunità in cui tutti possano dare il loro contributo e soprattutto sentirsi utili. Si può organizzare una cena per amici in terrazza e si può metterli al lavoro e quindi ecco che la possibilità poi che questa serata abbia un piccolo introito per loro davvero ci fa non solo come viene detto spesso che loro debbiano per forza ricambiare dell'ospitalità, ma invece che possano per esempio dare qualcosa che riguarda la loro competenza. C'è chi preferisce cucinare, chi invece taglia i capelli ed ecco che un senza tetto, un rifugiato può essere in ordine e sentirsi meno a disagio. Iniziative che Don Nandino, parroco della Chiesa della Ressurrezione nel quartiere popolare cita a Marghera, porta avanti già da tempo. La prossima sfida è proprio quella di cercare di portare, di mettere in un angolo della parrocchia gli strumenti del falagnameria e di domandare alle persone perché non avete bisogno forse di lucidare un tavolo. E così attiviamo piccoli servizi, piccoli gesti naturalmente di volontariato, di piccolo sostegno reciproco perché ognuno deve fare la sua parte. Questo è quello che ci ha detto il Papa e anche il nostro Patriarca Francesco.